Musica Ciao a tutti ragazzi Ho asserillato? Si ho asserillato Benvenuti in questo nuovo video ragazzi Oggi sono molto più calmo, molto più tranquillo Molto più rilassato se sente A parte il fatto che so tenere la voce molto bassa Abbiate pietà di me Per quanto mi prego No vabbè ragazzi, semplicemente Non so se avete notato sia ieri che sono rimasto senza Exo a forza di saltellare ragazzi Prima di iniziare l'episodio sono stato 20 minuti a saltellare Lì su e giù, su e giù, su e giù Ho consumato 30 livelli di Expo Quanti ne avevo? Non mi ricordo, a forza di saltellare Su e giù come un nebbete senza speranza Potevo mettermi in credito e saltellare Però io sono un demente quindi Sono un demente Si sta caricando là nel frattempo Allora ragazzi, cosa faremo in questo episodio ragazzi? Gli ultimi priori, lo so, devo andare sulla luna Giuro ragazzi, stasera ci vado È che prima di andarci volevo invitare qualcuno di particolare Cioè Avevo un programma di invitare qualcuno nell'episodio In modo da fare qualcosa di fico Prima di andare sulla luna Non so se ho reso l'idea Cioè io parto E c'è qualcuno insieme lì che mi dà una mano Che mi aiuta con l'attivazione del sistema Che poi quando parto Capito? E devo, non so chi cazzo invitare Capito? Volevo invitare Ulissimo Sinceramente non so se ci sarà Spero di sì Vabbè ragazzi, cosa faremo quindi? Andremo a preparare tutto ciò che mi serve per la luna Che alla fine sono poche bagionate Che alla fine potrei anche non portarmi sulla luna Perché Io adesso quando vado sulla luna Ho bisogno delle cose basi più importanti Lì c'è un libro per terra, l'ho visto Le cose più importanti potrebbero essere tipo Non lo so Tipo le Dynamo Una Dynamo potrebbe essere importante Se scrivo Dynamo Potrei prendere le Compression Dynamo Le compression Dynamo ragazzi si fanno con Sì ma questi Team Gear io non li so fare Quelli sì però Così? No, questa è della Forest non va bene Ho avuto tutto della Thermal? Dai ragazzi Thermal, Thermal, Thermal No ragazzi praticamente Così Praticamente Cosa sto dicendo? Ci servono Prima di tutto queste Dynamo Perché le Dynamo ragazzi Le Dynamo sono importantissime Ovviamente Le Dynamo è la base Praticamente è ciò che ci andrà A produrre energia sulla luna Poi Qualche episodio fa Vi ho detto che Il Tesseract Non poteva portare interdimensionale Vero? Sbaglio? No, l'ho detto E praticamente sì L'avevo settato che non è interdimensionale Ma adesso ragazzi L'ho risettato E l'ho rimesso interdimensionale Perché quando il pack verrà pubblico Voglio che sia interdimensionale Però io rimango con il fatto Che in realtà non lo è Cioè io non lo voglio Nella mia serie non lo voglio Per nessun motivo Però nel pack l'ho messo Perché se no vado a complicare la vita a tutti E non ha senso Sinceramente Sinceramente mi dispiace Di fare troppe modifiche al pack Perché poi la gente si trova in difficoltà Giustamente E quindi Cosa andrò a fare ragazzi? Prima Questo è Dynamo Poi ovviamente gli autocraft E tutto quello che c'è Andrà intorno alle Dynamo Quindi dei blocchi Delle cose Sinceramente non mi viene in mente niente No ragazzi Ci sono delle cose che devo fare Praticamente Una cosa importantissima ragazzi È L'osmim L'osmim ragazzi Me ne serve tantissimo E io devo cominciare a fare Questo cazzo di autocraft Che ancora non ho Quindi vado ad encodare questo Poi vado ad encodare questo Questo Si fa con due tipi di uranio Quindi encodo questo Poi encodo l'altro Con l'altro tipo di uranio E encodo Ragazzi Siede due urani differenti E li vado a mettere Nella zona del Questi sono della meccanismo Quindi zona meccanismo C'è un autocraft meccanismo Da qualche parte Ecco qui Ci mettiamo gli urani E Ah no Questi sono della Non so Della meccanismo Della Questa Atomic scienze E Ro Osmim Questo anche Della Atomic scienze Vabbè È il mio È il mio ragazzi Della Xandertech Che poi Mi hanno fatto notare Spesso e volentieri Nei commenti Che Xandertech Vabbè ragazzi Cioè il pacchetto È in beta Cioè lo sto Per rilasciare Nella versione 1.0 Che sarà modificato Ovviamente E sicuramente La mia mod Sarà modificata Perché aggiungerò Qualcos'altro Non so ancora cosa Sinceramente Dove pensarci Ok Fatti quegli autocraft Ragazzi Mi manca l'autocraft Dell'acqua Qua 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 Mi serve l'autocraft Con il laser Ragazzi Sì perché devo fare L'autocraft laser Ricordate Ricordate Ah poi ho letto Un altro commento Ragazzi Mi ha detto Fatti un modo Per andare Da una casa All'altra Più rapidamente Ragazzi Più veloce di così Io non riesco a vedere Il metodo Cioè proprio L'unica cosa È il teletrasporto Potrei fare I teletrasporti Non sarebbe Una gattissima idea Anzi Un autocraft I teletrasporti Adesso che vado A craftare L'osmium Sì 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 Ci siamo Allora mi serve Il Come si chiama Osmium No Osmium Eccolo qui Ne craftiamo Uno Che non va Ovviamente Il craft in termina Ce l'ho sotto Se non sbaglio No Dove ce l'ho Il craft in terminal Ne avevo uno Ne avevo uno Sono sicuro L'avevo portato qui Ragazzi Il craft in monitor Dai Sono sicuro che l'avevo portato Ma porca Non è che mi ha craftato Oh me l'ha craftato Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Ok abbiamo questo Roosmium Che va insieme al diamante Giusto Diamant Che ne ho 14.000 Perfetto Questo Roosmium Insieme al diamante Diventa l'osmium ore Quindi devo fare così Con il diamanto E diventa Osmium Osmium ore Che non ho manco Per il cazzo E devo andare a farne uno Devo andare a farne uno Lo faccio subito Qui E però L'ho perso Ah no sta dentro l'ME Dentro l'ME Dentro l'ME Si 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 Lo metto qui nel laser Lo lascio craftare E gli blocco la chest Mi dico di non importare Perché mi serve Ok Andiamo un po' Dovrei craftare in pochi secondi Nice Ok Esce qui L'ha importato Dov'è ragazzi L'ha già Sta nella zona meccanismo L'ha già esportato Non ho fatto tempo a prenderlo Ne devo fare un altro Andiamo Mamma mia ragazzi Veramente Che cazzo di fel Andiamo 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 Ragazzi È veramente così complicato Eh si Ma se trovo un pezzo di osmium in giro Non faccio Ci stanno un po' di blocchi in giro Mi dicono Giusto Troverò un osmium Fra tutti questi blocchi Dio che casino Che cazzo è successo Qui il bordello totale Certo dell'osmium Potevi anche dare Gli smeraldi Interessante Dei diamanti Ancora più interessante Vediamo se c'è dell'osmium Per caso Manco per il cazzo Io ci ho creduto Non c'è manco morto Ok Vediamo un po' qui Se troviamo dell'osmium Osmium Possibile non c'è L'osmium Guarda dei cazzo Eccolo Eccolo qui c'è Facciamo lo sento Facciamo lo sento Smeraldi Dai prendi i smeraldi E valgono tanto Qui c'è la patita Non mi frega niente Osmium Dai Dai cazzo Niente proprio eh Zero eh Niente Tutti schifezzi Aspetta forse qua sotto Aspetta forse qua sotto Aspetta 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 Non mi copri Niente Oh niente proprio Ma niente Niente Finito l'osmium ragazzi Non c'è più osmium nel gioco Vabbè Ma comunque quanti bei minerali Uranio Buono mio No signal No signal No signal Lì c'è il signal Qui c'è sicuro Dentro sto meteorite C'è sicuro Dai eccolo Beccato cazzo Sì 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 Allora butto la terra Dammi l'osmium Ragazzi Ce n'è un altro qui Beccato l'osmium Due pezzi di osmium free Due pezzi di osmium free Allora ragazzi Questo osmium andiamo subito ad autocraftare in questo modo come al solito Tadam Encode E questo encode lo mettiamo qua Mettiamo a posto tutta questa roba amparadama che non mi serve Via 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 E questa craft l'andiamo subito a mettere al piano di sopra Dammi questo coso qui che fa dentro da me Anche questo Questa craft l'andiamo a mettere subito al piano di sopra qui dentro Dov'è? Qui Era qui giusto? Sì così Encode Perfetto E voglio craftare dell'osmium Sì io voglio osmium Osmium ore Ne voglio 64 Aspetta Vediamo quanto uranio ho Ok Ok voglio osmium Voglio 1024 Ok ragazzi Sapete che significa 1024? Che va moltiplicato per 4 Perché è la G quadruplica Quindi facciamo 2048 Sono 8000 8000 osmium 8100 qualcosa Comunque un po' più di più Un po' più di più Di più tantissimo E solo uno? Uno solo? Oh oh È arrivato È arrivato È partito GG Ok ragazzi Abbiamo messo a craftare 2000 osmium Spero che il tempo ce la mandi buona Spero che entro domani l'abbia finiti E adesso Adesso che ci arriverà questo 2000 osmium ragazzi Devo fare un'ultima cosettina No non è vero Finito tutto ragazzi L'autocraft dell'osmium ci voleva proprio perché ci aiuterà per il nostro viaggio della luna E fatemi pensare un attimo a quello che ci potrà servire L'armatura ce l'ho Ah una cosa che volevo mettere Che ho letto anche nei commenti ragazzi È il melee assist Una cosa che non vi ho spiegato Che sta nella mano Ed è questo Questo qui Melee assist ragazzi Nella sezione arm Abbiamo il melee assist Che si fa con un LV capacitor Che io non ho L'autocraft Non ce l'ho Mi servono due servomotor E l'LV capacitor Quindi vado qui Scrivo LV 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 Ragazzi lo so Questo episodio non è proprio il top Ragazzi È un episodio un po' filler Però non trovo Ecco qui LV capacitor craft Perfetto Tutti i materiali E andiamo subito a mettere il melee assist Ragazzi non è il massimo Perché Praticamente Impatto massimo Carito massimo Ok Il fatto è che ragazzi Non riesco a coincidere Il tempo di registrazione Con gli altri Quindi voglio fare l'episodio In cui vado sulla luna Cioè in cui parto Con qualcun altro Capito C'ho tutto un progetto in mente Non riesco a metterlo in pratica Sono veramente triste Purtroppo ragazzi Non posso farci proprio niente Ma niente niente Pazienza Detto fatto questo ragazzi C'è un'ultima cosa Che vorrei fare È riaccendere Il mio acceleratore di particelle Ragazzi è tanto Che non lo faccio partire Madonna che pessia Questo affare Io tipo Lo accendo subito Allora Avvio Punto acceleratore Ora non vorrei sbagliare Il programma Avvio punto acceleratore Il nostro c program Com'era? Ah Sequenza Sequenza Punto Acceleratore Perfetto ragazzi La sequenza Avvio in corso Perfetto Avvio in corso Tutto tutto Adesso dovrebbero partire Le armi Ok Le armi sono partite No Non è vero Ok Sono partite le luci Ok le luci stanno diventando Azzurre Spero Credo E adesso dovrebbe Qualcuno ha messo mani Dove? Ah È vero Oh porca È partito Oh funziona Nice Ancora funziona ragazzi Nonostante tutto Ancora funziona Not bad Praticamente quello che è successo ragazzi Vede tutte le lucette che non hanno funzionato bene Perché quando c'è stata Ricordate la famosa patch che feci Che mi cancellò tutti i blocchi Tutto l'acceleratore Mi sono dovuto ripiazzare Eh già E mi ha tolto anche molti blocchi Dalla struttura Quindi ho perso i suoni Che figata Sentite che bello questo suono Il bello è come accelero Sentite che sta accelerando Grazie Oh Che figo Riesco a stare dietro Grazie alla Power Armor Senza non ci sarei riuscito Di troppo roci Corri con Alexander Non riesco a stare dietro Con la Power Armor Eh ragazzi Questo accelera sempre più Fino a far esplodere tutto Non è vero Non esplodere tutto Genere antimateria ragazzi Guardate che cazzo di figata Ovviamente ragazzi Avete visto tutti il video Per forza In cui ho fatto partire questo coso Che è tipo troppo epico Io lo amo Io lo amo questo coso Fermati Sei troppo veloce Aspetta Non lo raggiungo più È troppo veloce Guarda che veloce la vado Non riesco a stare lì dietro Fermo Fermo Ma qui te lo sta esplodendo tutto Puh Esploso Basta Non l'avessi mai fatto Esploso tutto Comunque la batteria Notare ragazzi Che non si è ancora consumata Vediamo quanti antimateria ho Zero milligrammi Non saranno troppe Velocità 88% Ragazzi Io questo affare Lo lascio girare tutto il giorno Voglio generare tanta antimateria Perché dovrò farci delle cose Che non vi dico Un mistero E vediamo qui Che cosa possiamo fare Che cosa qui Oh si Ok Potrei andarvi a spiegare Una cosa ragazzi Che sinceramente Non so se mi serve Vediamo un attimo Vado a vedere un attimo La sezione dischi Perché è una cosa Della sezione dischi 64k 64k Tutti da 64k Eccolo Guardate un po' ragazzi Che avevo un ME 16k storage Aha Eh si ragazzi C'è un macchinario Che volevo farvi vedere Della Appled Che sinceramente Questo è proprio Il momento Di farvelo vedere Che è questo Qui Me Ioport Come direte Che cazzo È sto a fare È l'ME Ioport Mi serve Del glass Sto sempre senza Ha rotto Dov'è L'autocraft Del vetro Dov'è Dov'è Il cazzo Ragazzi Mi è sparito L'autocraft Del vetro Era in una fornace È successo qualcosa Merda Non mi dica È caduto Un medore Di sulla base Ragazzi Mi è sparito L'autocraft Del vetro Non è Non è possibile Ah l'ME Non è più collegata Perché Perché forse Non arriva energia Che energia Arriva qui L'auto E l'auto È collegata Ah 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 Aspetta 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 L'auto Forse l'ho collegata male Auto 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 Che tesseract era L'ho messo dentro La piramide di tesseract Vero? Sì È lì Dov'è il problema Scusami Dov'è auto Fammi vedere auto Auto Vieni un po' qui Sei tu auto Che problema hai Scusami Energy mode send Basta Solo quello Di inviare energia Dov'è il difetto Scusami Ma stanno buttando fuori Queste batterie Sì L'ho messo le freccette Dite che le devo mettere Le freccette Io sinceramente Non credo Ma ce le metto Sicurezza Ok Qui butta via Qui aspira Qui aspira Ora non vorrei Fare una cazzata L'ho girata Merda Ok Ok Ora dovrebbe andare Spero eh Andiamo un po' a vedere Strano che non arrivasse energia Cioè praticamente non arriva energia Dalla tessera auto Però lì c'è energia Andiamo a vedere Andiamo a vedere Magari è tornato tutto online Eh sì è tornato online Sì sì Vedo le lucette Vedo tutto Sì 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 ragazzi Era solo un bug di No non è vero Manco per il cazzo Però questo è online Perché non è collegato? Qual è il tuo problema? Scusami Quale cazzo è il tuo problema? Scusami No no Adesso mi spieghi Perché qui non arriva il segnale No 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 Adesso tu me lo spieghi No 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 Qua c'è qualcosa Che non va Ah forse si è spento Il controller Ancora peggio Cazzo cazzo È vero Si è spento il controller Ragazzi avevo serie Problemi di corrente Qui mi ero dimenticato Prima ci ero passato E non l'ho più sistemato Cazzo 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 Si è spento il controller Sono sicuro Eccolo è spento infatti Eh la corrente Non arriva bene da qui ragazzi Devo cambiare il sistema Vediamo un po' Quanta corrente c'è dentro C'è E perché è spento allora? Autocrafting Perché si è spento? Dammi un motivo per cui Ok te lo do io il motivo Per riaccenderti Pezzo di merda Non si accende Perché? L'energia c'è? L'output è super Giusto Ragazzi questo è un bug Questo è un bugissimo Oh 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 Che stiamo a fare qui? Che è sta mafia? Televita accende No 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 Non ci siamo proprio Non ci siamo proprio ragazzi Sicuramente il server avrà Bisogno di una qualche sorta Di revvio Che cazzo ha? Non va ragazzi Non va il Quantum Link Della autocraft Non gli piace Non c'è qualcosa Che non gli quadra No 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 Qua c'è qualcosa Che non va Qua c'è qualche cosa Che non va Qui c'è qualcosa Ragazzi sto impazzendo Non va 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 ragazzi Non so veramente Che cosa inventarmi Americano un cavetto diretto Col cavetto diretto si Non ci siamo Non ci siamo proprio Non ci siamo Questo è un bug Non so che genere di bug potrebbe essere Però è un bug Questo si deve scollegare Non così Non così deve scollegare solo sopra Ma si stronza allora Come devo fare io queste mod Non ce n'è una che va come dico io Tutte per cazzi loro ogni volta ha un problema Qui Vai così chiudo sotto e baffo ancora Sei contento adesso? T'ho chiuso da sotto Basta che sei contento No no ma se sei contento te io non posso di niente Se sei contento Allora Glass Craft 10.000 50.000 50.000 vetro ragazzi A posto Ok ragazzi altra cosa importantissima Che devo portare sulla nuova ragazzi è energia Devo poter collegare le me senza rimanere senza energia Quindi serve tantissima energia Dei quantum link pronti che ce li ho Giusto vetro e cotto Perfetto ma io di sì ragazzi dovrei avere tutto quello che mi serve E la questione è Ok adesso la zona autocraft è collegata Sta craftando il vetro Il vetro a me serviva per fare quel macchinario Che adesso andiamo subito a fare ragazzi E' questo qui La I.O.Port I.O.I.O.I.O.Port La I.O.Port ragazzi è un macchinario un po' particolare Che io andrò a mettere qui Perché mi serve a portata di mano Quindi adesso faccio passare un cavo dell'upload Nell'M.E.K.I.Bort Ecco qui E lo collego così Una cosa del genere Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Ok E questo devo metterci il dischetto Ah no vieni qui Su Su Eh Dischetto da 16k ragazzi Che cosa fa quel macchinario? Semplicemente ragazzi È Formatta i dischi Oh occurs Perdi tutto No ragazzi possiamo formattarli in vari modi ovviamente Ci da delle varie opzioni Una è transfer direction dal disco ai drive Vuol dire che io trasferisco nei drive Oppure dai drive al disco Posso sia riempire un impianto a me da dei dischi O svuotare un impianto a me dentro a dei dischi Ovviamente scelgo io Ovviamente vorrei scendere Ok basta, solo questo Ok ragazzi, questo comando praticamente Move output and empty Sì È un comando avanzato ragazzi Che nemmeno vi sto spiegando non serve a un cazzo Perché questo macchinario è splittato Questo macchinario si collega e via Allora io imposto che dal disco butto nell'ME Guardate che succede ragazzi, metto il disco Guardate Guardate Pulito Il disco ragazzi è stato completamente svuotato all'interno del nostro impianto E tutto il suo contenuto è andato a inserirsi all'interno dei dischi che già abbiamo Eccoli qua I nostri dischi da 64k ragazzi Molto semplicemente vediamo quanti ne ho da parte 64k Ne ho 16 per i fluidi Molto interessante Così mi prendo tutti E negrafto se permettete 64 da 64k Pam Si comincia con i stack ragazzi Pam Ok Tutti questi dell'acqua li riempiamo Cazzo quanti Cazzo quanti ne sto facendo Anche di questi ragazzi Sto riempiendo tutta la zona anche dell'acqua Spero non si riempie troppo Anzi Voglio sapere l'acqua quanto sta Acqua Ho 160 milioni di 165 milioni di acqua 9 milioni di sewage 10 Diciamo 104 secchi di pink slime 13 milioni di Petroglio E 22 milioni di lava 732 Ho quasi un milione di carne ragazzi Siamo 732 mila E 22 milioni di lava Io sinceramente non so che cazzo farci con 22 milioni di lava Più altri 24 che stanno nei tank Vabbè Dettagli Va bene ragazzi Per questo video è tutto Vi ho spiegato un po' di cosettine Molto poco Molto poco importanti Ma che probabilmente non ha mai usato nessuno Ragazzi Io sinceramente Non lo so Vabbè dai Non so cose usate e riusate ragazzi Magari l'io apporto un po' di meno ragazzi Perché questo è un macchinario un po' poco usato Però è fighissimo Cazzo ci svolte i dischi Dai che c'è di più figa Cazzo io questo disco lo butto Perché non mi piace Via E almeno non ho perso gli oggetti che c'erano all'interno Che posso volere di più Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Io ho praticamente finito l'expo Appena finisco di saltare Vi saluto definitivamente E uno E due E tre E fine ragazzi Ci vediamo nel prossimo video stasera Dove sicuramente al 100% andrò sulla luna Quindi preparatevi per un bel video ragazzi Ciao a tutti Ci vediamo